Il ritmo ha una cosa stupenda, non si ferma mai. Il ritmo ha una cosa stupenda, non si ferma mai. Non ci interessa l'età, non ci interessa la bravura. Il nostro unico comandamento è divertirsi. Per iscrivervi andate su www.drumsonetower.it che il Drumson Tower Show sta cercando voi, anzi, sta cercando te. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!